Ciao a tutti, come attirare la fortuna in modo scientifico? Prima di affrontare questo tema, però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45, col mio seminario dal titolo Seduzione emozionale per conquistare chi desideri. Riferimento 333 15 11 703 e l'appuntamento full immersion di Milano, domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 19, il seminario del titolo Autostima e Seduzione in Amore nel Lavoro, riferimento sempre 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco per effettuare il tuo percorso di crescita personale con me e ti puoi abbonare al canale Felicità Benessere per diventare moderatore del canale con una quota simbolica e ottenere attenzione in live, nel progetto live. Allora, quali sono, come facciamo ad attirare la fortuna in modo scientifico? Beh, intanto quello che chiamiamo fortuna sono semplicemente degli effetti che si manifestano in funzione di quello che noi facciamo, cioè delle azioni che noi facciamo otteniamo degli effetti. Questi effetti possono essere di varia natura, positivi o negativi, a seconda di come noi agiamo. Quindi la prima cosa è essere aperti a nuove esperienze. Se noi per primi ci chiudiamo alle esperienze, ci chiudiamo a nuove esperienze, non potremo mai tirarne di nuove, ma andremo a modellare, a ricambiare sempre le stesse cose. Quindi non usciremo magari dalla zona di comfort, ma il nuovo, il salto quantico, non lo faremo. Poi una cosa che dobbiamo allenare è seguire l'istinto. Seguire l'istinto vuol dire non stare a rimuginare. Pensate un attimino se una leonessa caccia, diciamo così, per inseguire la zebra che fugge, si mettesse lì a pensare, ma la prenderò mai questa zebra? Ma ce la farò? Ma se non riuscirò a prenderla, come farò a sfamare i miei ioncini? Moriranno di fame, anch'io non è che farò una bella fine. Ecco, quindi non ringerà mai la zebra. Quando la leonessa attacca e insegue la zebra è tutt'uno, come un falco, come un qualunque. Tutto è istinto, l'istinto è l'unione della logica e della razionalità. E conseguire l'istinto ci fa raggiungere dei livelli molto alti di possibilità che le cose vadano per il verso giusto. Poi ovviamente dobbiamo essere ottimisti. Intanto le fregature le pieno sia gli ottimisti che i pessimisti, però perlomeno l'ottimista vive bene tra una fregatura e l'altra, mentre il pessimista sta male anche tra una fregatura e l'altra. Poi un'altra cosa importante da fare è cercare la prospettiva giusta, cioè vedere le cose dal punto di vista giusto. Cambiare il punto di vista ci fa interpretare gli eventi diversamente. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45, con il mio seminario del tema seduzione emozionale. Riferimento 333 15 11 703. L'appuntamento di Milano del primo marzo. Full immersion dalle 9.30 alle 19.00. Autostimile seduzione in amore nel lavoro. Riferimento sempre a 333 15 11 703. E poi vatti abbonare al canale Massimo Terramasco e al canale Felicità Benessere. Ciao a tutti.